...la faccia di ieri per emissione, gravandosi la collettività amministrata in una situazione di rientro perché condurre il bilancio comunale ad una situazione di equilibrio. L'amministrazione comunale ha abbandonato ogni prutenza, confiando volosamente l'entrata di bilancio al fine di un'attestata informale ma inesistente equilibrio finanziario a permettere il mantenimento di livello di spesa pubblica insostenibile. Senza invece impegnarsi in una necessaria opportunazione di risanamento. Bene, cari signori, dai che ha amministrato la città così non vi faccio dire perché sono un cattivo amministratore. Grazie, buon Natale a tutti.